Si muovono su orizzonti politici diversi, i sindaci di San Marzano e Nocera Superiore, Cosimo Annunziata e Gaetano Montalbano, accomunati però tuttavia dall'essere guida di realtà medio-piccole e diventate fulcro di esperimenti amministrativi al loro modo molto attenzionati dalla stampa. Gli abbiamo idealmente posti a confronto nella loro prima intervista di inizio anno. Tutto quello che è stato messo in cantiere sarà portato a termine, non è semplicemente il fatto di dire approvare i progetti, approvare non solo i progetti definitivi ma anche aprire i cantieri, quindi i cantieri con tutta onestà mi posso permettere di dire che al 99% saranno quasi tutti aperti prima dell'elezione del 2014, non è per un fatto di natura elettorale ma anche per rispettare l'impegno e il contratto verso i cittadini, per cui diverse opere approvate per i preliminari, adesso con i progetti definitivi saranno tutti oggetti di contrazione di mutuo con la cassa di posse e prese, per cui i cantieri dopo le gare che farà la Prefettura perché noi abbiamo la stazione unica appaltante che ci garantisce celerità ma ci garantisce anche la serietà rispetto a queste cose, per cui credo che nel volgere di un paio di mesi saranno tutti quanti già da poter cantierare. È stato un anno ricco di problematiche, ricco di fattori negativi, io spero e lo spero veramente per tutti, non solo per la comunità che io rappresento ma per il mondo intero che effettivamente l'anno nuovo sia un anno di speranza, sia un anno di risposte, sia un anno in cui anche le fasce più deboli non dobbiamo ancora definirle tali, è un impegno importante, è un impegno che credo a livello principale il nostro governo dovrebbe prendere come elemento fondamentale, sinceramente su questo ci sarebbe tanto da dire, non è possibile che le singole amministrazioni siano deputate a risolvere una problematica così seria.